Sì, è lodato Gesù Cristo. Venga, venga, presto. Ma che succede? Non lo so, ha lanciato un urlo improvvisamente, poi è svenuto un malore. Non lo so. Apro il finestrino, ha bisogno di un poco d'aria. No, ma forse è nulla di grave. Sa, noi religiosi a volte facciamo dei lunghi digiuni. Può darsi che la poveretta... Ma forse sarebbe meglio cercare un dottore. Un medico, sì, sì. Vado io, eh. Lei venga, venga a vegliarla. No, padre, no, non vada via. Resti qui con me. Non mi lasci. Si è riavuta, eh? Sì, mi sono ripresa, sì. Specialmente se il padre resta qui con me. Ma ho battuto cadendo? Sì, ho battuto cadendo, sì. Si sente meglio, sorella? Molto, molto meglio. Molto meglio, specialmente se il padre è così buono e resta ad aiutarmi. Vero, padre? Tra cinque minuti siamo ad Alassio. È stata una cosa breve, adesso mi sento meglio e avrà cura di me. E tutto andrà bene. Mi dispiace molto. Grazie. Grazie. Grazie.